Diciamo che è stata una partita veramente tosta, anche perché avevamo in fronte una squadra che fisicamente ha una spazza importante e poteva mettere difficoltà. L'abbiamo fatto, secondo me, una grossa prestazione, proprio anche a livello di gioco, condita con due gol, veramente dottore, come si dice. Nel stesso tempo per me era un risultato determinante, perché probabilmente in questo momento ci permette di giocare le prossime sette partite con un po' di serenità. E secondo me una squadra come la nostra può ancora migliorare quelle schiene. Un applauso lo devo fare a tutti i giocatori che fin qua sono stati impiegati, anche perché nella situazione che avevamo noi non era facile tirarsene fuori. Questo l'abbiamo fatto grazie e soprattutto a quei giocatori che magari giocano un pochettino meno. Diciamo che oggi, secondo me, a salvezza virtualmente acquisita, diciamo che è un ringraziamento che faccio veramente. I giocatori che sono stati nel gruppo e hanno giocato un po' meno. Questa è una cosa importante e quello che poi allunga fa la differenza.